Poteva essere una partita importante per il Legnago che si impegna, anche nel secondo tempo, circa il gol del pareggio nel finale di partita, ma niente da fare. Passa la Clodiense al Sandrini di Legnago, 2-1, avete visto Friggi e Ruffini al quarto, poi la Clodiense in gol, Pelitzer benissimo per Isotti che fredda così Miletic ma va elogiato il prolungamento di testa del pallone di Pelitzer, il numero 10 della Clodiense per Isotti. Aria di rigore dall'altra parte Clodiense, Nicola Valente che approfitta di un bel calcio di punizione di Viviani, peccato la zampata non è di quelle vincenti, 38esimo ancora Pelitzer per Isotti lasciato colpevolissimamente libero dall'altra parte del campo dai difensori del Legnago. Isotti ha tempo per mirare e batte per la seconda volta Miletic, 38esimo Clodiense, 2-0, ne passano dei minuti 8 e c'è il Legnago con Viviani e Farinazzo a cercare la via del gol. Farinazzo fa tutto molto bene, mi pare di aver visto la respinta di Okroglic dalla parte del portiere della Clodiense con i piedi sinistro a evitare, guai peggiori, gol nella ripresa al settimo di Valente, Nicola Valente, Nic Valente che riapre la partita, 2-1, 1-2 dite come volete, il Legnago è sotto ma non si dà per vinto, bel sinistro di 25esimo vedete del secondo tempo di Paolo Ruffini e poi Rivi ancora è Valente, un minuto più tardi, Rivi fuori per Valente, il destro è violentissimo, palla sul fondo, 31esimo, l'ultima chance per il Legnago, ancora un calcio d'angolo, secondo palo, arriva dalle retrovie, credo Emanuele Friggi per il coppo di testa, sul fondo, vince la Clodiense, 2-1.